ciao a tutti ragazzi oggi vi porto un video particolare stavo facendo un game su warzone in un br singolo quando in safe finale rimango uno contro uno ad un tratto si spinge il controller ci tengo a precisare che io gioco con mouse e tastiera su ps4 quindi quando il controller si spegne succede che l'audio scompare dalle cuffie e se abbiamo i tasti schiacciati della tastiera non funzioneranno fino a quando non li lasceremo per poi poterli riusare quindi cosa faccio ad un certo punto mi ritrovo il personaggio che all'improvviso non si muove subito lascio i tasti e poi provo a cercare riparo però vedo che il nemico è fuori dalla visuale quindi mi fermo per la seconda volta e riaccendo il controller ma nel frattempo lui esce e mi spara bene ragazzi adesso vi lascio al video buona visione ciao via bella stamattina un vero cacciatore di test mi piace via 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 portali al 25 cosa vuol cambiare via 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 fa spara molto più fetta ebbene male duro la tappa 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 risparati o santo manco il fallo sembra la gabbina livello 10 e dr livello 14 quanto stiamo correttoni ma cronetta buongiorno sono passato un'ora e 40 ma come soccorso ma non ho fatto un ruolo di me e decima io no, non ho mangiato, non ho saluto non sai via questo merino ne configurano un accordo sei tu laggiù nel cielo eccolo ho preso ma che bella sta Carabinando quando fa il rumore di quando prendi la persona non c'ho provato ok, ho preso fantasma e non ho preso il cecchino ma c'è un mp5 gravo provo 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 il coso mp5 perchè sa curioso oddio ma so ho fatto una doppia ecco ho fatto una doppia con eh da lontano lascia aperto eh gravo da lontano scuola l'mp5 lascio posta proprio è proprio impossibile cioè si vedranno pure pure ma cosa qualcosa a ferro mi scombussola lo zoom capito quando si mette quindi ho uno zoom totale tipo cecchino allora c'è posta ma se ho un zoom parziale che mi manda fuori fuoco tutto il resto non lo so non ci riesco proprio non so abituato ma no ho ammazzato ma porca cosia ho ammazzato l'amico su un muretto e no niente è morto è morto è morto è morto ma è morto un attimo è morto non sono arrivato, ancora non sono morto nonna come l'haga restano meno di cinquanta nemici bim bum bam a terra? morto? mamma mia Blasco mi ha schioppato un altro sul copuzzolo della montagna c'è un negozio, guarda che finanza che faremo che c***a che spara? ma c'hanno lo sniper uno pari al gas doppia mi muovo laggiù taglio contrassegnato, richiedo supporto Stryker 3, ricevuto attacco in corso ma c***a e' un tiro dopo l'ultimo non è un luogo ma c***a non è un tiro ma c***a non è che allora espulso per inattività ok si vado a tu fai io vado a tu fai io scoppio ma che vuol dire che l'ho guardato quello che ho detto ah in senso guardato durato in senso vabbè certo entro bene spainf morto spainf spainf no un amico oggi dungeon and dragon stavamo per fare un total party kill dico solo questo c'è stato dal party kill c'entrò a fare tre cose oh in tre in tre su cinque a terra tipo warzone hanno scoppiato tutti quelli che fanno i dps eravamo in tre su sei scusa eravamo io ranger poi c'era il coso il barbaro guerriero e il l'altro guerriero tutti e tre a terra sono rimasti lo strecone e il chierico speccato per fa per fa healer e il ladro che faceva un d4 con il portellino mamma mia mamma mia non sono a combatte contro un aberrazione che ha incassato una cosa come 180 punti ferita prima di morire quindi ne conviene da te che con d4 ce ne sarebbe voluto abbastanza insomma c***o aspetta ora siamo rimasti uno v1 un blanco oppure ti sono dustato ecco un lato c***o c***o uff uff